Si svolgerà domani, 22 aprile, appena Sant'Andrea, alla 17esima edizione della Festa dell'Albero per valorizzare il patrimonio boschivo della riserva di Castel Cerreto con la partecipazione delle scuole dell'Unione dei Comuni del Medio Vomano e del Corpo Forestale. Sono i ragazzi delle scuole che mettono a dimora, anche se è un gesto simbolico, queste piante che vengono donate, fornite dal Corpo Forestale dello Stato di Teramo. In questa occasione, oltre a mettere a dimora delle piante, c'è una liberazione di uccelli rapaci sempre forniti dalla forestale che vengono da un centro di recupero. La didattica è in fondo il fine principale della nostra riserva, quello di educare un po' i giovani partendo dalle scuole dove c'è il vivaio di questi ragazzi, all'educazione e al rispetto della natura e di una vita sostenibile. La nostra riserva è gestita dalla cooperativa Floema e si ha un'estensione di 142 ettari, va dai 300 metri di altitudine fino ai 600 metri della frazione Pilone dove è situata la porta della riserva. Qui abbiamo anche la foresteria, abbiamo una piccola area camping per favorire il soggiorno per chi volesse rimanere per qualche giorno in più.